Ma cos'è questa storia? Come è entrato quello? Eh? Piangevi? Perché? Sei infelice? Ma va, hai rovinato tutto. Quel signore che hai trattato così è un amico di mia madre. Era venuto qui per aiutare me e te. È un uomo buonissimo. Ma non trattarmi così. Sono stanco, ho girato tutto il giorno. Non ho trovato niente, niente. Nemmeno come operaio. Sciocco. Io avrei voluto parlarti, chiederti tante cose, domandarti come siamo cambiati, David. Se vi ho deluso, mi dispiace. Anch'io volevo diventare chissà che cosa. E invece sono una ragazza qualsiasi. Tu hai fatto tutto da solo e sei il migliore di tutti. Giulia! Giulia! Buonasera. Buonasera. Signora Giulia De Santis, guarda. Vedi, su questo pezzo di carta siamo già sposati. Sei contenta? E poi ho trovato un appartamento formidabile. È ben nascosto. David! Grazie a tutti. Grazie a tutti